Cari amici e frequentatori d'Africa, giornalisti, ricercatori, antropologi, studenti, blogger, missionari, imprenditori, vi invito tutti al seminario che avrà luogo il 16-17 ottobre dal titolo Schermi d'Africa, il cinema e le Afriche di ieri e di oggi. Il seminario è organizzato dalla rivista Africa con il supporto del COE Centro Orientamento Educativo. Partiremo proprio dall'inizio, da Sembel Usman, il decano, che faceva cinema perché il suo popolo non sapeva leggere. Passeremo a Sissè e la magia dell'iniziazione. E poi alle favole morali di Trissau e Draugò. Per arrivare alla perfetta estetica di Abderrahman Sissakò. Informazione importante, è proibita la musica. Sapete che è proibito il gioco del calcio. Con l'aiuto dei registi e dei loro film scopriremo un mondo diverso, ma anche universale. Non vi rivelo però di più, perché vi aspetto e risponderò a tutte le vostre domande e inoltre vi racconterò dei segreti, retroscena che nessuno conosce di questa cinematografia. Grazie a tutti.